Il 13 giugno del 2010, un agente di polizia sta facendo il suo solito giro di prelustrazione nel quartiere di Conyers, in Georgia. Ad un certo punto compare in strada una giovane ragazza totalmente in preda al panico. Sta piangendo ed è in evidente stato di shock. Sta chiedendo aiuto disperatamente e agita le braccia in aria per farsi nuotare dall'agente di polizia. L'uomo allora rallenta e scende subito dal veicolo. Si avvicina alla ragazza e lei gli dice che era appena successo qualcosa di terribile in casa sua. Quello che l'uomo si ritroverà davanti. Sarà peggio dello scenario di un film horror. Amici miei buonasera sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi parliamo di gemelle. Oddio ogni storia di questo tipo che riguarda gemelli, gemelle, è sempre più inquietante rispetto al solito. Non so perché c'è qualcosa nei gemelli identici, o mozigoti, che fa semplicemente inquietudine. Quindi ecco preparatevi perché le gemelle di cui parleremo oggi non fanno affatto eccezione. Prima di cominciare però volevo dire di nuovo grazie a tutti quelli che hanno deciso di prendere il mio libro, l'hanno letto e mi hanno detto le loro impressioni. È davvero importantissimo per me e voi siete stati preziosissimi. Per chi ancora non lo sapesse ho scritto un libro che si chiama Quando la luce si spegne, nel quale vi racconto dieci storie che in un modo o nell'altro mi hanno fatto appassionare a tutto questo mondo qui, dell'oscuro, del macabro e poi anche del true crime. Nel libro verrete trasportati nella mia infanzia e insieme a me conoscerete le storie più strane, misteriose e raccapriccianti che mi hanno segnato e traumatizzato. E non sto esagerando. Trovate il mio libro in tutte le librerie e negli store online. Ovviamente vi lascio il link nella descrizione per prenderlo su Amazon, qualora voleste prenderlo su internet, se no appunto lo trovate nelle librerie. Detto questo, cominciamo subito. Per questa storia dobbiamo tornare nei nostri tanto amati e odiati Stati Uniti. Le persone su cui ci concentreremo sono Jasmaya e Tazmaya Whitehead, due gemelle omozigoti, nate il 27 novembre 1993 a Decatur, in Georgia. Per semplificare le chiamerò con il nome con cui tutti le chiamavano, ovvero semplicemente Jaz e Taz. La loro mamma, altra figura fondamentale da considerare e da conoscere per comprendere la storia di oggi, è una donna di nome Jarmeka Yvonne Whitehead, soprannominata Nikki. Tutti l'hanno sempre chiamata così, quindi anche io la chiamerò Nikki. Prima di presentare le due gemelle, sono obbligato a spendere qualche parola prima sulla madre, su di lei, per contestualizzare. Ma soprattutto, cosa importantissima, dovrò fare qualche passo indietro nel suo albero genealogico e presto capirete il perché. Nikki, quindi la madre delle due gemelle, nasce il 18 aprile 1975 e la donna che la mette al mondo si chiama Linda Whitehead. Quando Linda dà alla luce Nikki, si trova letteralmente in prigione, e quindi immaginerete subito che Nikki non ha vissuto proprio i suoi anni migliori durante l'infanzia e ovviamente è venuta al mondo in una situazione già difficile di per sé. Linda in quel momento si trova in carcere per essere stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti, ma in ogni caso la donna aveva già deciso volontariamente di non voler crescere la bimba. Per questo Nikki salterà da una casa di affidamento ad un'altra durante i primi anni della sua vita e troverà poi stabilità grazie alla nonna, ovvero la mamma di Linda, una donna di nome Della Frazier. Della sarà una figura molto importante per questa storia, quindi ricordatevela molto bene. Quando Nikki ha solo 16 anni decide letteralmente di scappare di casa. Purtroppo non sono riuscito a trovare e risalire ai reali motivi di questa fuga, né tantomeno dove fosse fuggita. Comunque diciamo che possiamo intuirlo. In quel periodo infatti la ragazza vuole divertirsi, si pare che le piacesse molto fare festa, frequentare locali e uscire con molti ragazzi diversi. Ho ipotizzato che avesse una natura ribelle e non volesse sottostare alla regola della nonna Della, motivo che l'ha poi spinta a scappare di casa. Quando Nikki dà alla luce le gemelle è molto giovane, ha solo 18 anni, e non ho la minima idea purtroppo di chi sia il padre perché proprio non viene menzionato da nessuna parte. In quel momento comunque Nikki è consapevole di non essere in grado di crescere le gemelle e decide quindi di affidarle a sua nonna Della, ovvero colei che aveva cresciuto anche lei fino ai 16 anni, nonché la bisnonna delle gemelle. Nikki, data la giovanità, non vuole assumersi la responsabilità di crescere le bimbe e durante la loro infanzia sarà una figura davvero poco presente. Secondo le testimonianze, infatti, si faceva vedere solo ogni tanto per ricordare alle bimbe che lei effettivamente fosse la madre, ma allo stesso tempo rimaneva abbastanza distante e non ricopriva per niente il ruolo di figura materna. Si può immaginare che le gemelle vedessero Nikki come una sorta di sorella maggiore che si faceva vivo ogni tanto per portare loro magari qualche vestito, qualche regalo, ma il lato autoritario ed educativo era totalmente nelle mani di Della. Quindi a tutti gli effetti la loro bisnonna stava facendo loro da mamma. Per Nikki l'unica priorità in quel momento non sono le figlie, ma continuare semplicemente a vivere la propria vita mentre sua nonna si occupa di loro. D'altro canto, Della in realtà si è sempre dimostrata felice di crescere le gemelle e ha sempre fatto il meglio affinché maturassero in un ambiente sano e con dei valori. Ha fornito alle ragazze un'ottima educazione scolastica, oltre a spronarle a partecipare a diverse attività come la danza e la musica. Nikki, nonostante non sia una figura fisicamente presente, è comunque invogliata a contribuire finanziariamente alle attività delle ragazze. In quel periodo la donna, infatti, comincia a frequentare un corso di cosmetologia e poi inizierà a lavorare come stilista. Lavoro in cui in realtà raggiungerà un discreto successo. Dalle foto si può notare come Nikki fosse una donna estremamente elegante e sempre ben curata, nonché una di quelle persone che ci tiene molto affinché anche le figlie siano sempre curate come lei. Sono arrivato alla conclusione che Nikki dimostrasse il suo affetto verso le gemelle quasi esclusivamente con regali di tipo materiale. A livello affettivo, però, per loro, era come una sorellona a cui piaceva solo divertirsi. Taz e Jazz, quindi, nonostante la situazione familiare un po' particolare, crescono comunque in un ambiente relativamente sano. E uso questo termine perché Della riesce ad essere un'ottima figura di riferimento per loro. Riesce ad invogliarle a fare sempre meglio, sia a scuola sia nelle attività extrascolastiche. Le gemelle, quindi, si rivelano essere delle ottime studentesse con voti altissimi. Studiano duramente, prendono l'istruzione molto sul serio. In tutto ciò, vi starete chiedendo, invece, dove si trova Linda, ovvero la mamma di Nikki e la nonna delle due gemelle. Ecco, diciamo che Nikki non si è mai fidata di sua madre, di Linda, soprattutto per il fatto che non era stata lei a crescerla, per cui solo raramente si metteva in contatto con lei per chiederle, magari, una mano con le gemelle. Diciamo quindi che Linda, durante tutta l'infanzia di Taz e Jazz, non è molto coinvolta. Quindi tutta la situazione, nonostante le difficoltà iniziali, sembra trovare poi una sorta di stabilità, una sorta di equilibrio. Nikki è molto ben voluta dalle gemelle, è una donna socievole, estroversa e divertente. E Taz e Jazz adorano passare del tempo con lei. Ma, come vi dicevo, non la vedono per niente come una mamma, piuttosto come un'amica più grande o una sorellona che si fa vivo ogni tanto per portare dei regali, fare shopping, passare del tempo di qualità insieme, cose così. Un rapporto decisamente diverso rispetto a quello che solitamente hanno madre e figlie. Tutta la parte autoritaria, infatti, manca completamente perché Nikki, intanto, è ancora immersa nella sua vita da ragazza giovane che vuole divertirsi. È nei suoi vent'anni, è molto festaiola e i suoi passatempi preferiti sono ancora uscire, bere e incontrare diversi ragazzi. All'età di 25 anni, poi, Nikki conosce un uomo di nome Robert Head, che all'epoca ha 55 anni, ovvero ben 30 anni più di Nikki. Tra i due, però, a quanto pare, scatta il colpo di fulmine e intraprenderanno una vera e propria relazione amorosa. Questo Robert è un camionista di lunga data ed è spesso in viaggio per lavoro, cosa che a Nikki va molto bene in realtà perché questa relazione con Robert in effetti si rivelerà essere una relazione aperta o almeno semi-aperta. Su questo ci sono pareri discordanti perché alcune fonti affermano che i due avessero un accordo riguardo l'avere una relazione aperta, mentre altre fonti sostengono che Robert non fosse al corrente degli eventuali amanti di Nikki. In ogni caso, il fatto che Robert sia via per quasi tutta la settimana piace molto alla donna perché le permette di avere sia una stabilità dal punto di vista relazionale che allo stesso tempo non precludersi nulla. Ricordate che Nikki è ancora immersa nei suoi 20 anni, le piace ancora uscire e divertirsi e penso che questa situazione le piacesse molto in realtà perché poteva a tutti gli effetti continuare a uscire e godersi la vita pur sapendo di avere un uomo accanto su cui poter fare affidamento, per qualsiasi cosa. Insomma, questa relazione, seppur molto strana vista dall'esterno, in realtà sembra funzionare. Nikki e Robert avranno una relazione molto duratura, tant'è che quando la donna compie 31 anni quindi quando le gemelle ne hanno 13, i due stanno ancora insieme e la relazione sembra andare meglio che mai. Nikki e Robert, quindi, ormai stanno insieme da quasi 6 anni e lui sente il bisogno comunque di volersi sistemare definitivamente insieme a lei quindi le propone, finalmente, dopo tutto sto tempo, di andare a vivere insieme. E quando dico insieme, però, non mi riferisco soltanto a Robert e a Nikki, ma anche alle gemelle. Robert, infatti, ha proprio voglia di creare una vera e propria famiglia con la donna e lei, d'altro canto, è cresciuta a 31 anni e le sue priorità nella vita lentamente stanno cambiando quindi si sente anche lei pronta a fare questo passo e diventare a tutti gli effetti una moglie per Robert e una madre presente per le sue figlie. Un po' tardi, no? A 13 anni dalla loro nascita. Si è ricordata così di avere delle figlie. Non si fa, ragazzi. Se volete avere figli o se fate figli per qualsiasi motivo, dovete prendervene cura dalla nascita. Fatto salvo per particolarissime situazioni in cui non si può o non si riesce ad abortire in cui però si può rinunciare alla maternità in maniera anonima. Mi raccomando, i figli non sono i vostri giocattoli, per favore. E ve lo dico perché spesso purtroppo sento storie di questo tipo in cui la gente fa figli poi non vuole prendersene cura e poi succedono cose brutte. Madonna. Comunque, arrivati a questo punto, Nicky è al settimo cielo. In quel periodo della sua vita, la sua carriera lavorativa sta prosperando e vuole davvero iniziare ad essere una figura materna presente per Jas e Tass. Così decide di proporre alle gemelle il trasferimento insieme a lei e Robert. Le cose però non andranno come previsto. Le gemelle fin da subito si rivelano essere contrarie all'idea di trasferirsi con la madre e con il patrigno, perché a loro in realtà piaceva molto la situazione con la bisnonna Della. Da questo momento diciamo che inizia un vero e proprio conflitto tra le gemelle e la madre e il motivo è molto semplice. Nicky fino ad allora non era mai stata una figura presente per le figlie e loro non l'hanno mai definita come una vera e propria figura materna. Questo genera nelle ragazze molta confusione. In primis perché erano in piena età adolescenziale e sappiamo tutti cosa vuol dire essere adolescenti. In più dobbiamo aggiungere la situazione in cui avevano vissuto fino a quel momento. Immaginate che per loro l'unica figura di riferimento fino a quel punto era sempre stata la bisnonna Della. Infatti per loro Nicky non era altro che una persona che andava e veniva nella loro vita. Ma di punto in bianco questa persona aveva deciso di essere presente a tutti gli effetti e a tutti i costi. Diciamo che dal punto di vista educativo non è il massimo perché Taz e Jazz perderanno completamente ogni punto di riferimento e ogni stabilità. Le ragazze comunque continueranno ad opporsi fermamente a questa scelta del trasferimento e resisteranno duramente per andare contro alla decisione di lasciare la bisnonna. Ma nonostante tutto Nicky riuscirà comunque a ottenere la custodia. Quindi quando Nicky ha 31 anni riesce finalmente a trasferirsi a Conyers in Georgia dove comincia appunto a vivere con Robert. È proprio in questo periodo del trasferimento che il comportamento delle gemelle prende una svolta piuttosto preoccupante. Jazz e Taz diventano molto scontrose nei confronti di Nicky. Sono sempre arrabbiate. Arrabbiate per non essere state ascoltate soprattutto perché hanno sempre ribadito più e più volte di non voler lasciare la situazione con la bisnonna Della. Tutta questa frustrazione viene alimentata anche dal fatto che sono in piena età adolescenziale che rappresenta di per sé uno dei momenti più delicati nella crescita di un individuo. Le gemelle non si sentono ascoltate, non si sentono capite e allora iniziano a prendere di mira la mamma Nicky che in quel momento vedono come il nemico principale della loro vita. Molto in fretta, le due ragazze diventano verbalmente aggressive nei suoi confronti. Ma non solo. La donna nota subito questo cambiamento nelle ragazze e arriva alla conclusione che per farsi rispettare e provare a migliorare la situazione deve diventare ancora più severa e molto più autoritaria iniziando a stabilire delle regole ferree in casa. Nulla di insolito alla fine perché tecnicamente sta solo adempiendo ai suoi doveri da madre se non fosse che fino a quel momento Nicky era stato tutto tranne che una madre per loro. Le gemelle infatti non la ritengono una figura da prendere sul serio e se ci pensate è comprensibile dato che la donna non era mai stata una figura stabile nella loro vita. Non si era mai realmente comportata come una madre. A mio parere quindi era molto prevedibile che jazz e tassi reagissero in questo modo così ostile alla situazione. Di punto in bianco Nicky vuole comportarsi da madre presente, autoritaria, stabilire delle regole e questo ovviamente non piace per niente alle gemelle che fino ad allora avevano visto la donna come una sorella maggiore con cui uscire, ridere, scherzare come se la vostra amica con cui uscite a fare shopping da un certo punto vi dice adesso venite a vivere con me e fate quello che dico io. Cioè è strano. Nel rapporto tra le tre è sempre mancato questo aspetto della genitorialità e quindi è impensabile che di punto in bianco Nicky prenda le redini della situazione e si trasformi in un genitore a tutti gli effetti. Non funziona così. Specialmente previa del fatto che le gemelle sono in piena adolescente cioè 13 anni sei proprio fuori di testa. D'altro canto Nicky vuole davvero maturare in quanto donna e in quanto madre perché in quel momento della sua vita realizza di non voler far crescere le figlie in una situazione simile alla sua. Probabilmente vede analogie tra la sua età adolescenziale e quella delle ragazze e non vuole assolutamente che anche loro passino le stesse cose che ha passato lei. Questo comportamento in realtà secondo me è corretto perché ogni genitore vorrebbe il meglio per i propri figli per cui anche Nicky spera che non commettano insomma i suoi stessi errori ma d'altro canto questo incarna anche il lato più ipocrita di Nicky perché lei fino a quel momento non aveva mai realmente pensato di prendersi cura di loro. Cioè solo ora che hanno 13 anni si è decisa ad essere una madre. Insomma. Questo alle ragazze non sta proprio bene ed è ovvio che non la prendano sul serio. Chi lo farebbe? Quindi non passa molto tempo dal trasferimento che le ragazze passano rapidamente dall'essere solo verbalmente aggressive nei confronti di Nicky ad esserlo anche a livello fisico. E con questo intendo dire che ogni volta che Nicky magari stabiliva una regola o imponeva qualcosa alle ragazze qualcosa che loro ovviamente non andava bene e con loro la picchiavano. A solo un mese dal trasferimento la donna si trova costretta a chiamare la polizia perché Jazz e Taz erano diventate veramente troppo violente. Immaginate la situazione in casa con Robert assente praticamente tutta la settimana e Nicky che si ritrova da sola con due adolescenti super incazzate che le mettono le mani addosso. Da quel momento le chiamate alla polizia non fanno altro che aumentare sempre di più. La situazione diventa davvero grave. Pensate che una delle due ragazze non sono riuscito a capire quale delle due aveva preso l'abitudine di mordere Nicky quando litigavano e in un'occasione la morsa talmente forte che le ha strappato la pelle. Oltre a questo l'andamento delle giamelle a scuola peggiora nel giro di pochissimo tempo infatti da essere ottime studentesse passano rapidamente ad avere brutti voti in tutte le materie e piano piano decidono anche di abbandonare tutte le attività extrascolastiche che frequentavano come la danza. E' a quel punto che la donna realizza di aver commesso un terribile errore e non riuscendo più a sostenere tutta la situazione decide di rimandarle a casa della bisnonna Della ma non in maniera definitiva però per un periodo di tempo per vedere se così facendo magari le acque si sarebbero calmate Così Jazz e Taz tornano finalmente a casa della bisnonna Qui magari penserete che tutto sarebbe tornato alla normalità no? Le ragazze magari avrebbero ricominciato pian piano a essere quelle di prima No Anzi nella loro mente si instaura un meccanismo di causa-effetto piuttosto preoccupante Si fanno l'idea malsana che con la violenza verso Nicky avrebbero potuto ottenere tutto ciò che volevano Era bastato maltrattarla e picchiarla in continuazione per farsi rimandare dalla nonna Quindi per qualsiasi altra cosa sarebbe stato lo stesso Ricordate che stiamo parlando di adolescenti incazzate Era prevedibile che avrebbero fatto una correlazione di questo tipo Così Jazz e Taz iniziano a pensare che diventando sempre più aggressive fisicamente con la madre allora sarebbero riuscite ad avere la meglio Da questo momento inizierà un vero e proprio declino Non solo per l'aggressività delle ragazze che si intensificherà sempre di più ma anche perché inizierà una vera e propria battaglia giudiziaria per stabilire chi avrebbe dovuto avere la custodia legale delle gemelle Quindi Jazz e Taz tornano dalla bisnonna Della e ricominciano a frequentare le loro amicizie ritrovano i loro amici si iscrivono di nuovo a tutte le attività extrascolastiche danza musica Nonostante abbiano ancora molta rabbia repressa sembrano comunque tornare più stabili e anche l'aggressività da parte loro sembra scemare col passare dei giorni Alla fine ricordate che per loro la bisnonna Della è colei che le ha cresciute e che ha sempre imposto determinate regole quindi la vedono ancora come una figura materna autoritaria e pian piano sembra tornare tutto alla normalità purtroppo però non sarà davvero così Ricordate che Nikki aveva chiamato diverse volte la polizia dopo essere stata picchiata dalle gemelle ecco proprio per questo fatto un paio di mesi dopo le ragazze si ritrovano ad affrontare un vero e proprio processo giudiziario per via delle violenze verso la loro stessa madre da qui partirà anche una battaglia giudiziaria per stabilire chi avrebbe dovuto realmente avere la custodia delle gemelle c'è da una parte Nikki che se ricordate aveva ottenuto la custodia delle gemelle prima di trasferirsi con loro e che quindi continua a insistere sul fatto che ora Jazz e Taz debbano andare a vivere con lei e dall'altra parte c'è la bisnonna Della che invece insiste sul fatto che le ragazze ormai debbano finire gli anni dell'adolescenza e insomma gli anni finché non sarebbero diventate maggiorenni con lei almeno per ritrovare la giusta stabilità che avevano conosciuto fino a quel momento ma soprattutto per continuare a sottostare a delle regole aspetto fondamentale a quell'età e poi ragazzi c'è Linda ricordate Linda la madre di Nikki la nonna delle gemelle ecco a quel punto della situazione anche Linda inizia a farsi avanti e questo a mio parere è stato un gesto molto ipocrita anche da parte sua perché lei non è mai stata presente durante la loro infanzia ma neanche per Nikki per nessuno quindi non ho capito bene perché a quel punto della situazione si è svegliata e ha deciso di voler esprimere la propria opinione al riguardo vabbè comunque Linda dà pieno appoggio alla figlia e continua a sostenere che le ragazze debbano poter crescere con la propria madre biologica nonostante fosse palesemente la scelta peggiore comunque l'intera famiglia dovrà poi affrontare diverse consulenze familiari in tribunale con degli assistenti sociali alla fine delle quali si stabilirà che la custodia delle due gemelle sarebbe spettata a Nikki che per carità capisco è la madre tutto quello che vuoi ma le due la picchiavano non è una cosa proprio normale si aspettavano che non sarebbe successo ancora e perché mai non sarebbe dovuto succedere a seguito del processo con grande dispiacere della bisnonna Della le gemelle tornano a vivere con la madre e questa volta definitivamente e illegalmente e da qui in poi come era prevedibile si raggiungerà un punto di non ritorno Jazz e Taz devono di nuovo lasciare i loro amici e abbandonano anche tutte le attività extrascolastiche che amavano frequentare e l'aggressività che negli ultimi mesi si era affievolita torna ancora più forte di prima le ragazze cominciano ad insultare i Nikki ogni giorno anche per le cose più piccole e la picchiano ripetutamente ogni volta che cerca di imporre qualcosa che a loro non va bene per le gemelle infatti la violenza ormai rappresentava l'unica arma per farsi davvero ascoltare e per vincere le chiamate alla polizia da parte di Nikki aumentano a dismisura tanto che la donna inizia davvero a temere per la sua incolumità tra l'altro gli agenti della zona iniziano a fare visita sempre più spesso alla famiglia e da una fonte ho scoperto che a volte la polizia si recava lì anche senza aver ricevuto chiamate giusto per vedere come era la situazione se fosse tutto sotto controllo se la donna stesse bene cioè questo per farvi capire quanto dovesse essere pesante e seria la faccenda comunque sia questa situazione terribile va avanti per ben due anni fino a quando le ragazze hanno ormai 15 anni ci sono periodi in cui Nikki si ritrova costretta a portare Jazz e Taz dalla bisnonna Della perché non riesce più a sostenere tutta quella violenza in casa e quindi le gemelle passano da casa di Nikki a quella di Della ogni mese praticamente questo general nelle gemelle ha ancora più confusione e ancora più rancore perché nella loro mente ormai si era instaurata l'idea che la violenza fisica e verbale rappresentavano l'unico mezzo per ribellarsi e farsi ascoltare e tutto ciò non ha fatto altro che rinforzare la loro convinzione riguardo una dinamica causa-effetto pensavano se picchiamo la mamma allora lei ci fa tornare dalla bisnonna e puntualmente così accadeva anche gli appuntamenti in tribunale con gli assistenti sociali diventeranno sempre più frequenti fino a quando non si deciderà in modo definitivo stavolta proprio definitivo al 100% che le ragazze sarebbero dovute stare a vivere permanentemente con la madre Nikki io non so che cazzo vabbè cioè sicuramente avranno avuto i loro motivi per prendere una decisione del genere ma la picchiavano cioè era chiaramente una situazione in cui la madre non aveva il controllo mentre la bisnonna sì quindi perché mandarle a vivere con la madre a tutti i costi per il tribunale tutta questa situazione di caos nella famiglia non ha fatto altro che generare confusione e poca stabilità nelle gemelle che ormai avevano perso completamente ogni punto di riferimento quindi c'è sì per loro il problema era che le due facessero avanti e indietro da casa della madre a quella della bisnonna quindi ha detto basta fare avanti e indietro state a casa di vostra madre a inizio gennaio 2010 quando le ragazze hanno ormai 16 anni il giudice concede ufficialmente la custodia delle ragazze a Nikki nessuno sembra realmente entusiasta di questa situazione tranne Nikki che è contenta di poter finalmente ricoprire il suo ruolo da madre in maniera ufficiale come se non bastasse decide anche di iscrivere le ragazze in un'altra scuola e questa però per loro è la goccia che fa traboccare il vaso Jazz e Taz ora sono molto arrabbiati diventano sempre più aggressive non passa nemmeno una settimana dal trasloco che la polizia viene chiamata due volte da Nikki in due diverse occasioni sempre per essere stata picchiata dalle figlie in tutto ciò Robert Robert ricordate il marito di Nikki ecco lui era sempre in giro per il lavoro quindi la donna si ritrova praticamente in trappola con due gemelle super incazzate che la vogliono solo picchiare ogni giorno brutta situazione arriviamo così al 13 gennaio 2010 come vi dicevo all'inizio del video un agente di polizia sta perlustrando il quartiere come ogni giorno e proprio quando passa davanti alla casa dei Whitehead nota una ragazzina correre fuori dall'abitazione chiamando aiuto agitando le braccia in aria la gente rallenta mette a fuoco la ragazza e si rende subito conto che si tratta di una delle due gemelle più di preciso di Tass Tass corre incontro al poliziotto con il viso rigato dalle lacrime e in maniera molto confusionaria dice che lei e Jazz erano appena tornate a casa da scuola quando hanno trovato la loro mamma Nikki morta in una maniera terrificante dentro casa il poliziotto quindi si precipita fuori dalla macchina ed entra nell'abitazione la prima cosa che gli salta agli occhi è il sangue c'è sangue ovunque sui divani sul pavimento sulle pareti le ragazze poi portano la gente in bagno dove dentro la vasca trovano il corpo senza vita di Nikki la donna presenta evidenti segni di lotta senza contare le numerose ferite da taglio ovunque nel corpo le gemelle vengono immediatamente portate alla centrale di pulizia e tutta la proprietà viene delimitata per permettere agli investigatori di svolgere le indagini le due ragazze verranno interrogate insieme e dai video dell'interrogatorio si può notare che entrambe siano molto agitate quasi isteriche piangono urlano singhiozzano sono visibilmente turbate durante l'interrogatorio affermano di aver perso l'autobus quella mattina e quindi sono state costrette a recarsi a scuola a piedi arrivando comunque in tempo per l'inizio delle lezioni poi sono tornate con l'autobus e dopo essere entrate in casa hanno visto il sangue dappertutto e infine il corpo di loro madre in bagno dall'autopsia viene poi rivelato che Nikki Whitehead è stata uccisa con circa 80 coltellate 80 si tratta di un omicidio passionale come si definiscono causato da un odio molto profondo e con un accanimento nella vittima decisamente marcato chiunque fosse l'autore del gesto non voleva solo uccidere Nikki ma voleva sfogare tutta la sua rabbia nei suoi confronti in una maniera efferata e atroce gli investigatori allora iniziano a pensare a chi potesse compiere un crimine del genere e passano in rassegna ai potenziali sospettati mettendo sulla lista le persone più vicine a lei perché un crimine del genere può essere compiuto soltanto da qualche persona stretta che la conosceva a fondo non è che uno sconosciuto ti entra in casa e ti uccide in questo modo il primo sospettato è il marito Robert erano giunte voci infatti che Nikki fosse infedele nei confronti dell'uomo e che avesse un amante in teoria però lui lo sapeva e gli andava bene ma comunque si è scelto di tenerlo come una possibilità i poliziotti formulano quindi la teoria che Robert avesse scoperto il tradimento e approfittando dell'assenza delle gemelle fosse entrato in casa e avesse ucciso la donna questo spiegherebbe la violenza e l'accanimento tuttavia questa teoria viene smontata quasi subito quando i poliziotti scoprono che Robert non si trovava nemmeno in quello stato al momento dei fatti infatti da qualche giorno era partito per lavoro e avrebbe fatto ritorno nel fine settimana il tutto viene poi confermato anche dal suo datore di lavoro allora gli investigatori spostano l'attenzione sul secondo potenziale sospettato e chiedono alle gemelle chi fosse quell'amante di Nicky scoprono così che un uomo in questione era un certo Joe Carter un barbiere che lavorava in un salone non molto lontano dalla casa di Nicky le gemelle allora rivelano che la loro mamma e Joe la sera prima avevano avuto una discussione molto accesa e pesante che si era poi terminata con la rottura tra i due questo basta la polizia per convocare immediatamente Joe in centrale e interrogarlo ma io mi chiedo nessun dubbio sulle gemelle le stesse che per anni la picchiavano quasi quotidianamente no vabbè comunque mentre si attende l'arrivo di Joe l'investigatore che stava ancora interrogando le ragazze si accorge di un dettaglio molto importante nota che le gemelle da quando erano state portate in centrale non si erano ancora tolte i guanti questo appare abbastanza sospetto perché di solito quando si entra in un posto cioè entri da fuori in un posto chiuso la prima cosa che si fa togliersi la giacca i guanti il berretto insomma si fa così quindi decide di chiedere alle gemelle di sfilarsi i guanti le ragazze dopo qualche secondo di esitazione se li tolgono molto lentamente rivelando evidenti segni sulle mani come tagli e graffi intanto Joe arriva alla centrale e non appena riceve la notizia che Nicky è morta entra in evidente stato di shock viene subito confermato che al momento dell'omicidio l'uomo si trovasse al lavoro il che gli dà un alibi molto forte allora gli viene chiesto di poter essere esaminato al che l'uomo collabora subito al 100% viene così rivelato che non aveva nessun segno sul corpo nessun graffio che potesse magari indicare che avesse lottato con qualcuno nelle ultime ore negli ultimi giorni nemmeno sulle mani in seguito gli è stato anche prelevato il dna per confrontarlo con quello sulla scena del crimine ma anche questa volta non viene rilevato nulla il dna non corrispondeva quindi anche Joe viene ufficialmente eliminato dalla lista di sospettati a questo punto rimangono solo due sospettate ovvero le gemelle gli agenti decidono prima di tutto di verificare i loro alibi e quindi vengono controllate le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona più precisamente quelle di un benzinaio che si trovava proprio nel tragitto che loro avrebbero dovuto fare a piedi per andare a scuola quella mattina se ricordate infatti loro avevano detto quella mattina di aver perso l'autobus e di essere andate a scuola a piedi e di essere comunque riuscite ad arrivare entro l'inizio delle lezioni ma questa affermazione viene smentita poco dopo aver visto i filmati le immagini rivelano infatti che le ragazze non sono passate in quella strada vicino al benzinaio e anzi le immagini invece delle videocamere di sorveglianza della scuola rivelano che loro sono arrivate alle 10 e 15 del mattino quindi quasi due ore e mezza dopo l'inizio delle lezioni questo lascia ovviamente un bel intervallo di tempo in cui le due erano a casa e avrebbero potuto commettere l'omicidio essendo le principali sospettate viene prelevato il loro DNA e confrontato con quello trovato sulla scena per i risultati però come sapete bisogna attendere intanto durante l'attesa dell'analisi vengono rilevate anche le loro impronte dentali perché nicchi sul corpo mostrava segni di morsi e se ricordate una delle gemelle era solita morderla le ragazze vengono poi esaminate da cima a fondo e si scopre che tutte e due mostravano sul corpo evidenti segni di lotta in particolare Taz che sul braccio ha un grosso segno di un morso che è un po' confusionare questa informazione qui però praticamente la ragazza tra le lacrime afferma che era il suo modo di gestire l'ansia e che era solita mordersi il braccio da sola per sfogare la rabbia aggiungendo che per casualità in quel periodo aveva fatto a botte con una sua compagna di scuola che durante la lite l'aveva morsa allora io penso che abbia detto le cose in questo ordine perché in realtà era stata sua madre a morderla tuttavia all'inizio ha pensato che bastasse dire che si mordeva da sola agli agenti poi ha ricordato che le avevano preso le impronte dentali o comunque che gliele avrebbero prese di lì a poco non so adesso esattamente la cronologia dei fatti e quindi le impronte avrebbero smentito la sua dichiarazione del fatto che si sarebbe morsa da sola e quindi ha inventato la cosa della lite per dimostrare che il morso era effettivamente diverso rispetto al suo che in effetti era diverso perché era quello della madre al che pensava e queste sono mie supposizioni ragazzi gli agenti non sarebbero andati a controllare se effettivamente questa compagna avesse le stesse impronte dentali che aveva lei sul braccio mi sono spiegato? questa è l'idea che mi sono fatto io perché altrimenti non avrebbe avuto senso per lei dire che prima si mordeva da sola e poi aggiungere che però quel morso che aveva era il morso di una sua compagna avrebbe dovuto dire semplicemente dall'inizio che era il morso della compagna però magari non aveva pensato che avrebbero potuto controllare secondo me nella sua mente in pochi secondi si è avviato questo meccanismo di ok dico che mi mordo da sola e poi ha pensato ma questo non è il mio morso quindi devo dire che mi ha morso qualcun altro e quindi è successo questa cosa qua però mie considerazioni mie ipotesi comunque i detective intanto mentre succede tutto questo stanno esaminando la scena del crimine nella quale notano che l'autore del gesto ha provato in vano a ripulire tutto il sangue ci sono alcune parti della casa completamente pulite e altre zone in cui sembra che il sangue sia stato tolto lavato via solo in parte e nella lavatrice vengono trovati anche degli asciugamani sporchi di sangue gli agenti cercano di ricostruire l'accaduto e ipotizzano che l'assassino fosse in uno stato di forte agitazione dopo il delitto e avesse provato a ripulire la scena ma che poi si fosse arreso vista la gravità e il casino che aveva lasciato ad incastrare definitivamente le ragazze sarà però un oggetto trovato sulla scena più di preciso un vaso rotto su di esso infatti vengono trovati due diversi DNA quello di Nicky e quello delle gemelle e si i gemelli omozigoti hanno lo stesso DNA quindi da qui viene difficile risalire a chi fosse davvero l'autore del gesto ma conferma che sicuramente una delle due almeno una delle due era coinvolta le indagini per questo omicidio dureranno quasi quattro mesi e solo a metà maggio del 2010 gli agenti avranno raccolto abbastanza prove da poter portare le due gemelle al processo è solo in questo momento che Taz e Jazz confessano il loro crimine le ragazze vengono interrogate separatamente questa volta e nonostante questo la loro versione sarà identica il muovente dell'omicidio come già si supponeva e si immaginava era il forte odio che le figlie provavano nei confronti della loro madre Nicky si trattava di un crimine passionale e tutta questa rabbia incanalata era abbastanza per far scoppiare le ragazze in un episodio di violenza inaudita quello che verrà fuori in tribunale sarà ancora un'altra versione le ragazze affermeranno che quella mattina dopo essersi svegliate e essere andate in cucina per fare colazione hanno notato che Nicky era visibilmente turbata probabilmente dopo la litigata con Joe la sera prima che a quanto pare era effettivamente avvenuta e la donna quindi avrebbe iniziato a rimproverare le ragazze senza motivo e a quel punto la discussione si sarebbe fatta più accesa ancora più violenta al punto da portare anche alla violenza fisica Nicky sarebbe stata la prima ad attaccare si sarebbe munita del vaso per colpire Tass e solo a quel punto la ragazza si sarebbe quindi difesa prendendo un coltello da cucina e colpendola più volte le gemelle affermeranno che la donna si sarebbe poi trascinata fuori di casa per chiedere aiuto e ci saranno effettivamente delle prove a sostegno di ciò fuori dall'abitazione infatti sono state rinvenute delle tracce di sangue ma non solo anche sul muro della casa dei vicini c'era del sangue questo indica che Nicky potrebbe essere riuscita a trascinarsi fino alla proprietà dei vicini a bussare probabilmente per chiedere aiuto e a quel punto si ipotizza che le gemelle siano andate a prenderle e riportate dentro in casa per continuare il massacro una volta compiuto questo massacro hanno tentato di ripulire la scena del crimine con gli asciugamani e poi si sono recate a scuola per avere un alibi gli investigatori in tribunale affermeranno anche di aver trovato un diario in casa su cui le ragazze scrivevano ogni tanto dal diario emerge come il piano dell'omicidio in realtà fosse premeditato e di come le gemelle nutrissero un fortissimo fortissimo odio verso Nicky durante i loro processi entrambe si sono dichiarate colpevoli di omicidio tuttavia non sapremo mai chi abbia effettivamente sferrato il primo colpo perché gli esami del DNA non possono rivelare quale delle due abbia agito a entrambe vengono comunque dati 30 anni di carcere ma rimane ancora la domanda su come siano davvero andate le cose quel giorno e non lo sapremo mai dobbiamo fidarci alle ricostruzioni e alle loro dichiarazioni alle loro testimonianze la bisnonna Della in tutto ciò durante tutte le indagini durante il processo eccetera starà sempre dalla parte delle gemelle parlando con gli agenti affermerà più e più volte che le ragazze sono state spinte fino al punto di rottura e che nessuno nemmeno gli assistenti sociali sono riusciti a cogliere i segnali di allarme non sono bastate neanche tutte le chiamate alla polizia per violenza domestica a convincerli che le ragazze avevano bisogno di aiuto e quindi la bisnonna sostanzialmente ritiene che non sia effettivamente a tutti gli effetti completamente colpa loro Jazz e Taz Whitehead stanno tuttora scontando la loro pena e forse usciranno prima dei 50 anni le ragazze comunque hanno proseguito gli studi e riuscendo a ottenere il diploma e entrambe ora stanno studiando per laurearsi ci sarebbero tante cose da dire a riguardo questa vicenda è stata una tragedia che si poteva sicuramente evitare e a mio parere i colpevoli non sono solo Taz e Jazz non giustifico assolutamente l'atto brutale che hanno commesso penso che assolutamente debbano pagare per ciò che hanno fatto assolutamente come al solito quando sento queste storie però non posso fare nemmeno di chiedermi se le cose sarebbero potute andare in maniera diversa è ovvio che il caos in famiglia non ha fatto altro che alimentare la rabbia che le ragazze provavano nei confronti di Nicky e questo le ha spinte poi a compiere questo gesto brutale non so come si faccia ad arrivare a tanto e mi dispiace davvero per Nicky perché ha comunque provato ad essere una buona madre dopo anni dopo troppi anni è vero ma ci ha provato sicuramente questo può essere un esempio anzi può essere d'esempio per non sottovalutare mai situazioni simili ma soprattutto cogliere i vari campanelli d'allarme che mostrano un evidente stato di infelicità e frustrazione degli stati che possono portare ad episodi violenti e incontrollabili e questo era tutto se vi è piaciuto passare del tempo con me vi invito a mettere un mi piace a questo video o un non mi piace se invece non vi è piaciuto che ve devo dire in ogni caso i pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che molto presto vi racconterò una vicenda che per alcuni versi mi ha ricordato la famigerata storia di giunco furuta questa storia però è avvenuta in Inghilterra molto più vicino a noi spero quindi che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incurisiti non dimenticatevi di iscrivervi al canale e adesso parlo con te si proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare qui trovi il video che youtube pensa ti piacerà e ricorda youtube non si sbaglia mai e qui invece trovi la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più in profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me e vi do appuntamento il prossimo venerdì con un altro file ciao